Tantissimi colori, diciamo tutti quelli dell'orto, per questo piatto fantastico Fusili Primavera. La pasta fresca fatta in casa è davvero un gioco da ragazzi con Cooking Chef Kellwood. Colore, colore, colore è la parola d'ordine per questo fantastico piatto. Ingredienti semplici ma di gran gusto. Monto la frusta cappa per fare la pasta. Metto la farina nella ciotola del Cooking Chef e aggiungo due uova. Aziono il Cooking Chef a velocità 4 fino ad ottenere un impasto sbricioloso. Monto il torchio con la trafila dei fusilli e metto l'impasto nel torchio. Imposto la velocità 3 e aspetto che escono i miei fusilli. Taglio le verdure a pezzettoni, dopodiché le metto nel tagliaverdure. Faccio stufare le verdure all'interno della ciotola del Cooking Chef con un filo d'olio e dell'aglio. A 140 gradi e metto a velocità 1. Qui utilizzo il gancio a spirale. Il gancio a spirale del Cooking Chef ricrea il movimento naturale del mestolo, un po' come se ci fosse io a posto suo. Aggiungo rucola e olive. E mantico per un minuto a velocità 1. Per valorizzare un così bel trionfo di colori utilizzo un semplice piatto trasparente, l'effetto è garantito. Ed ecco qua i miei fusilli primavera. Cooking Chef Kenwood è ideale per ogni stagione.